Ai nostri microfoni, Ambrogio Posadino, classe 2004, prelevato direttamente dal Tadolce Calcio Sassari. Prime impressioni dopo la prima sgambatta quasi ufficiale con questa nuova esperienza? È molto diverso dal calcio 11, è molto più stancante, è molto più rapido. Ancora ho da lavorare, ho da capire come funziona a teno questo sport, però è divertente. Adesso speriamo bene per la prossima stagione con questa squadra, è un bel gruppo e siamo tutti dei buoni amici. Una settimana di lavoro con un gruppo di giocatori più grandi di te, una nuova esperienza, impressioni di cosa potrà dare, quale sarà il contributo di Ambrogio Posadino a questa ICNOS? È stata sicuramente una nuova esperienza e il mio contributo si vedrà durante l'anno ancora. Ti facciamo i nostri più migliori in bocca al lupo, speriamo che tu come i tuoi predecessori, i giovani talenti che si sono affacciati a questo sport possa finalmente esprimerti al 100%. Noi abbiamo grande fiducia, in bocca al lupo Ambrogio. Grazie mille.